Salve a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro veramente che stiate bene. Io vi dico la verità, questo video non era in programma, non era in programma, è totalmente improvvisato, vi dico la verità. Non voglio essere bugiardo nel dire no, avevo preparato questo video, non l'avevo preparato per nulla. Allora, è totalmente improvvisato e voglio parlare di una cosa che ieri sera mi ha lasciato veramente molto molto stordito, vi dico la verità. Mi ha lasciato un po' giù di morale, vi devo dire la verità, ma anche molto arrabbiato con il sistema. Sono arrivati delle dichiarazioni clamorose da parte di un giornalista su alcune cose che io vi ripeto in realtà da settimane e sulle quali ho fatto, veramente ho ripetuto molte volte questo concetto, proprio per fissarlo bene all'interno appunto delle persone che comunque mi inseguono sul canale. Fra pochi secondi vado a svelarvelo una cosa veramente importante, fra poco ne parliamo. Prima di iniziare, tre cose molto semplici, iscrizione, solito like, solita campanellina ovviamente sempre per le notifiche, per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi ovviamente però non attivate la solita campanellina delle notifiche, ovviamente ragazzi non vi arrivano mai i video, quindi questa è una cosa fondamentale. Se volete, tra l'altro ragazzi, escono contenuti nuovi tutti i giorni e se volete potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Allora, Giletti è stato intervistato da Radio Bianconera. Radio Bianconera è una radio che si occupa ovviamente di Juve. Negli ultimi giorni ha ovviamente intervistato Giletti, che è un giornalista straordinario secondo me nel suo settore. Ti ha detto delle cose importantissime sulla questione relativa all'Inter. Voi sapete che l'Inter è accusata di aver avuto rapporti veramente molto stretti, molto illegali con gli Ultra. Un Inter che comunque sapeva tutto quello che avveniva a Milano, ma che ha preferito non parlare. E allora Massimo Giletti parla e dice la verità e ha fatto delle dichiarazioni veramente incredibili che ho voluto riportarvi. Lui parla e dice Infiltrazioni mafiose nelle curve delle milanesi. Ho invitato tante grandi firme del giornalismo, ma nessuno vuole parlare. Questa è la prima cosa che ha detto nell'intervista a Radio Bianconera. Lui ha inviato e ha invitato, ovviamente ha inviato materiale e ha invitato soggetti del giornalismo italiano a parlare di questo argomento nelle sue trasmissioni, ma nessuno ha voluto parlare di questa cosa. Quindi hanno tutti rifiutato l'invito perché nessuno vuole discutere di questo argomento in diretta televisiva. Già qui bisognerebbe cominciare a discutere, e ne discuteremo anche in un contenuto a parte, in cui analizzeremo i motivi per cui la gente rifiuta di parlare di questo argomento, che secondo me è una cosa veramente gravissima. Quindi già che tu non parli, già sei colpevole. Poi ha detto Un giorno farò anche un elenco delle persone che sono state interpellate. All'interno di questo caso ci sono stati, ovviamente, delle scomparse, un altro tentato, colpo, insomma molto importante ai danni di alcuni soggetti, e poi ha aggiunto una frase veramente clamorosa. Ha detto Quello che farò vedere fra un paio di settimane nella mia trasmissione farà il giro del mondo. Quindi Giletti annuncia che c'è qualcosa in più rispetto a quello che effettivamente noi fino ad adesso abbiamo visto. Io questa cosa qui ve la sto ormai dicendo da parecchie settimane. Faccio video sull'argomento ormai da un po', e ogni volta che io parlo dell'argomento c'è sempre qualcuno che mi dice Ma tanto non faranno mai niente, è inutile parlarne, non c'è nulla, eccetera, eccetera. Io vi sto ripetendo che la cosa peggiore che una persona possa fare è la cosa veramente più... la cosa più ridicola, secondo me, che uno può fare è non discutere di questo argomento. Cioè, se voi volete arrivare a capo di questo tema, a capo di questo caso, perché questo è un caso giallo, voglio dire, voi dovete parlarne. Cioè, dobbiamo parlarne. Dobbiamo discutere di quello che è successo. Dobbiamo denunciare. Dobbiamo, con educazione ovviamente, elencare ciò che non va. E Giletti è proprio uno dei pochissimi, insieme, insomma, ai soggetti che conoscete, anche il sottoscritto, che ne parla praticamente tutti i giorni. Ed è un argomento molto molto particolare. Lui dice che ci sono dei giornalisti che hanno paura di parlarne, dei giornalisti che rifiutano in vivo perché in diretta tv non se la sentono di ammettere determinate cose, perché sono delle cose comunque abbastanza gravi. Quindi sono delle, insomma, delle situazioni e dei modi di vedere molto gravi. E questo è chiaro. Nel senso, è stato capito. Io l'avevo detto già un'altra volta. Molta gente mi ha chiesto, ma tanto ne parli te, però noi non leggiamo sui giornali. Vi avevo già detto che sui giornali voi non avreste trovato niente. E Giletti ve l'ha confermato. Voi sui giornali non avreste trovato niente. E infatti non troverete niente perché i giornali non ne vogliono parlare. Che è una cosa diversa. E questa è la conferma di quello che vi ho detto nelle scorse settimane. Non è che ne stiamo parlando o ne sto parlando perché io so le cose e X non le sa. Ma perché io parlo e X no. Che sono due cose molto diverse. Quindi attenzione. Tu ti rifiuti di parlare. Non è che non sai le cose. Quindi attenti quando diciamo no, ne parli solamente tu. No, no. Noi ne parliamo perché esistono le cose. Loro rifiutano di parlarne perché sono comunque diciamo amici di questi soggetti. Quindi rifiutano di parlarne. E poi Giletti annuncia e dice attenzione perché io ho delle cose nuove. Cioè ho qualcosa che farò vedere nel mio show. Nella mia trasmissione che venonda fra l'altro sulla Rai. Voglio dire quindi insomma sarà possibile vederlo per tutti. E all'interno della mia trasmissione io dirò delle cose clamorose. Cioè dirò delle cose su questo tema veramente molto clamorose. E io sono curioso a questo punto di sapere cosa dirà fuori Giletti. Perché potrei aver indovinato. Nel senso che un pensiero ce l'ho su quello che potrebbe essere. Però io non lo posso dire al momento. Perché se lo dico poi purtroppo vado a togliere un vaso. Vado a togliere il coperchio del vaso di Pato. Quindi non posso attualmente ancora. Voglio aspettare che questa cosa diventi ufficiale. Perché per adesso non se ne può parlare in maniera così libera. Diciamo così. Perché altrimenti escono fuori processi, avvocati, giudici e cose varie. Quindi aspettiamo un attimino se quello che vuole dire Giletti è quello che ovviamente ho in mente personalmente. Aspettiamo nel vedere se effettivamente quello che sta succedendo rappresenta ovviamente la realtà di tutto quello che... No, di tutto quello anche in generale di cui stiamo discutendo. Se è la stessa cosa che penso io allora ne parleremo ampiamente in alcuni video. Altrimenti potrà essere anche un'altra cosa. Sicuramente potrebbe significare che ci sia qualcos'altro, qualche altro tema sicuramente molto interessante, molto colorato di cui parlare. Ma io penso che questo video qui spiega bene quello che vuol dire quando ci sono dei dubbi sulla questione. Io quando ne parlo, parlo perché so. Nel senso abbiamo conosciuto, abbiamo parlato. Io non avrei motivo di parlarne se non sapessi le cose. Quando voi non ascoltate sui giornali le cose, quando voi non ascoltate in tv, non leggete sui giornali, non andate a leggere queste cose. Non è perché non esistono, ma perché non ne parlano, te lo ripeto un'altra volta. E Giletti conferma quello che avevo già spiegato. Non è che loro non conoscono, non vogliono parlarne, che sono due cose molto molto diverse. Allora sta a voi adesso essere persone intelligenti, e sono sicuro che siete gente comunque all'altezza della situazione, e dire io voglio sapere le cose. Io voglio comunque conoscere la verità, comunque conoscere tutti i dettagli. Quindi poi dipende, insomma, da delle cose. Posso pensare una cosa, posso pensarne un'altra, ma voi avete ovviamente modo di conoscere tutto quello che potete conoscere, senza essere privati, cioè senza essere, se vogliamo, nascosti da questa cosa. Perché tanto le cose, i classici, diciamo, elementi che voi seguite sul web, ma anche in televisione, non vi parlano di queste cose qua. Non ve ne parleranno mai, perché non possono parlarne. Perché sono persone che comunque sono legate, ecco, tra virgolette, a determinate altri soggetti, quindi non possono parlarne. Quindi voglio sapere un pochino, Giletti, cosa farà adesso? Perché adesso voglio proprio sapere cosa farà Giletti e cosa dirà Giletti, ok? Quindi voglio vedere un pochino cosa ne parliamo, anzi, cosa dirà lui, ma anche in che modo ne parlerà. Perché anche quello, secondo me, ha un perché. Quindi anche quello ha un perché. Io sono molto curioso di conoscere la verità qual è. Sono molto curioso di sapere in che modo lui, diciamo, dirà le cose, se è quello che penso. E voglio capire un pochino cosa sta succedendo all'interno del contesto, ovviamente, italiano. Perché è una cosa veramente molto, molto, molto grave, secondo me. Ed è una cosa veramente straordinaria. Voglio sapere un pochino cosa ne pensate voi. Quali sono le vostre personali opinioni a proposito di questo argomento. Perché, secondo me, è un argomento importante. Voglio sapere cosa ne pensate voi. Quindi sapere un pochino, sapere un pochino di... Cosa ne pensate? Fatemi sapere un pochino nei commenti le vostre personali opinioni a proposito di questa cosa che è importantissima.